ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video tg4 fatto tg5 fatto studio aperto fatto sport media set fatto 27 fatto cambio lcn di italia 2 fatto tg con 24 fatto sky sport 24 fatto sky tg 24 fatto erai news 24 fatto e per paramount network e spike purtroppo hanno cessato le trasmissioni ed è un davvero peccato comunque i telegiornali tg4 studio aperto sport media set tg con 24 sky tg 24 sky sport 24 erai news 24 con le loro nuovissime cose sono veramente fantastici per davvero e anche indimenticabili per tg5 finalmente il telegiornale di canale 5 è in alta definizione 27 invece ok soltanto un altro canale a caso di media set italia e infine per italia 2 soltanto un altro cambio di lcn ed è tutto ok forse e niente signori finalmente ce l'abbiamo fatta tutto quello che manca è tg1 la 7 la 7 di etg la 7 teniamoci pronti a tutto e stiamo attenti come già detto la nuova sila grafica musica e altre nuove cose su studio aperto rai news 24 e degli altri telegiornali che avevamo già detto alcuni secondi fa sono davvero fighissimi finalmente sky mediaset e rai hanno già fatto tutto però c'è un problema rai news 24 anzi tre sono il vecchio logo in sovrimpressione la vecchia grafica dei titoli e la tenda mini e super spot del 2015 e prima del restyling della rai del 2016 adesso manca tg1 la 7 la 7 di etg la 7 grazie mille a fabio lacara per aver fatto questa richiesta a proposito piccola storiella di la cnews 24 e grazie mille anche a nicola 7 billy blu per quest'altra richiesta la cnews 24 è il telegiornale di la ctv nato dopo la nascita di questo canale forse un po' di anni dopo cioè prima o dopo negli anni 90 la redazione del telegiornale è composta da giornalisti e conduttori come pietro comito pier paolo cambareri pasquale motta francesca lagoteta cristina iannuzzi enrico de girolamo rossella galati e tiziana bagnato va in onda con cinque edizioni quotidiane cioè tutti i giorni alle 7 alle 14 e 30 alle 17 e 30 alle 20 e 30 e alle 23 e 30 e una con il riepilogo dei fatti più rilevanti della settimana la settimana in replica durante la notte forse alla prima o dopo la mezzanotte ed è tutto alla prossima cari signori buona serata e ciao